Uomini e donne, l'inaspettata rivelazione di un ex tronista, ero sposato ma, nostro malgrado, abbiamo deciso di lasciarci. È giunto al capolinea il matrimonio di un ex tronista di Uomini e donne, il dating show di Maria De Filippi che sta appassionando il pubblico di Canale 5 ormai da oltre 20 anni. Abbiamo conosciuto Alex Migliorini nel corso di uno dei rarissimi troni gay del programma. Dopo aver portato a termine il suo percorso sul trono era uscito mano nella mano con la sua scelta. Alessandro D'Amico ma la storia era naufragata qualche mese dopo e non senza recriminazioni e accuse reciproche. Successivamente aveva conosciuto un altro uomo che nel 2020 gli aveva chiesto di sposarlo con una romanticissima proposta. Sembrava tutto andare a gonfie vele, ma negli ultimi tempi in tanti avevano notato che l'ex tronista non postava più nulla di suo marito. Pochi giorni fa, Alex Migliorini ha voluto rompere il silenzio e ha spiegato come sono andate esattamente le cose. Non ha perso però la speranza e la fiducia nell'amore.